Diventerai papà. Non è fantastico. Non voglio dei figli. Ora dobbiamo gioire. Premier League è il massimo. Sono molto contenta, ma non credo che verrò con te. Paesaggi incantati. Storie che appassionano e fanno sognare. Tutte le sfumature dell'amore, firmate Rosa Montilcher. Era la tua donna di copertura. Noi avevamo fatto un patto a cui lei non vuole più ottenersi perché si è innamorata. Cerco qualcuno che prenda il suo busto. In prima visione, un nuovo inizio. Sabato in prima serata, sulle 5.